Talento, estro e professionalità sono gli ingredienti della mostra Rinascita dello Stile, visibile fino al 21 marzo alla Sala Incontri dell'Ufficio in Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale a Torino. L'allestimento è stato curato da allievi ed ex allievi dell'Istituto Superiore Aldo Passoni di Torino, Dipartimento Moda e Costume. Quali sono i contenuti principali della mostra? La mostra rappresenta la rinascita dello stile e per far emergere gli aspetti diattici di questo lavoro. Ogni tavola di questa esposizione è a tema, ogni tema è seguito dai docenti di Dipartimento. Ognuno poi nella sua diversità di rappresentazione lascia emergere il proprio stile e quindi la propria capacità creativa. Quali sono le creazioni che hai realizzato? Ho fatto una tuta, una tuta da lavoro e dobbiamo vedere come questa tuta potrà diventare un capo di abbigliamento originale ed essere indossato e io l'ho fatto ispirato ai fumetti e alla pop art. Poi ho fatto invece dei figurini ispirati all'opera teatrale, in questo caso alla Turandò con questi abiti orientali. Ne ho fatto un altro in bianco e nero dove si vede questo pizzo che cade, è un abito molto drappeggiato.